Amici ultimo giorno, Manuel e Antonio andiamo a visitare una spiaggetta e poi torniamo a San Jose. Sono venuti a salutare la spiaggia del nostro hotel prima di lasciare Manuel e Antonio. Un acquazzone mentre arriviamo a San Jose. Un camion di cocchi. Questo lungo viaggio sta avvolgendo a termine. Ci siamo fermati lungo la strada per San Jose in un posto che si chiama Antigua Sienda dove proverò un pollo che non avevo mai provato. Uno stile achiotado si chiama A-C-H-I-O-T-A-D-O-S-I. Me lo ricordo bene. Vediamo di cosa si tratta. Ecco il mio pollo achiotato con delle uova, delle patate, delle tortillas e un po' di insalata. Cosa c'è di meglio che provare il pollo in un posto a caso lungo la strada con questo calore? Molto buono devo dire. Molto buono. Molto buono. Guardate che bella la decorazione di questo bisturantino familiare. Proprio carino. Guardate che bellino questo presepe. Fatto con la capanna, con le foglie della palma. Vedete che carino. Questo è il platano. Bello. Anche qua, guardate che bello. Questo non si mangia. Questi sono i platanitos. Mi sento bene così immerso in questa natura. dentro cui riesco a stare pacificamente per qualche giorno. Poi ho bisogno di andare via. Ecco qua. 600. Hola. Stiamo arrivando dopo tre ore a San José. Ultimo pedaggio. Hola. Hola. Finalmente siamo arrivati nella nostra camera di San José. Lo stesso hotel da cui tutto è partito. Qui siamo venuti a fare la prova del covid prima di tornare a New York. Ed eccoci qua per fare il tampone prima di tornare a New York. E concludere McDonald's.